ciao il video di oggi vuole farti riflettere su qualcosa sei padrone della tua vita oppure sei vittima delle circostanze molte persone quando si rivolgono a me magari mi scrivono oppure durante i miei corsi mi incontrano mi dicono sempre guarda mi sta succedendo questo quest'altro dico ma hai fatto qualcosa nella tua vita e ma non è mica colpa mia se questo accade magari hanno dei problemi a livello lavorativo a livello familiare qualsiasi sia la situazione si presentano un po come se fossero le vittime no e magari è capitato anche a te è abbastanza umano come puoi tu ribaltare questa situazione come puoi cominciare a trarre spunto da tutto quello che accade nella tua vita per farlo diventare qualcosa che gioca a tuo favore ti spiego questo come agisco io come mi muovo praticamente quando accadono delle cose spiacevoli non è che mi faccia piacere ma piuttosto che dire ecco il mondo ce l'ha con me oppure stanno accadendo tutte queste cose e lamentarmi comincio a pensare cosa sta cercando di farmi vedere questa situazione che cosa mi sta dicendo oppure come mai ho attratto questo nella mia vita cosa c'è qual è la vibrazione che ha portato questo nella mia vita ti faccio un esempio l'altro giorno sono ho ricevuto tre multe totale 300 euro non è piacevole ti assicuro non è che ho fatto i salti di gioia ma piuttosto che cominciare a colpevolizzarmi o avere pensieri del tutto negativi quello che ho cominciato a pensare che cosa sta cercando di farmi vedere la vita che cosa mi sta dicendo come mai è accaduta questa cosa come mai ho attratto questa situazione oppure le mie guide che cosa stanno cercando di dirmi e allora questo è un altro modo di vedere la situazione ok intanto non stai male come se tu vivessi la situazione come una tua come un'aggressione personale nei tuoi confronti quando invece la vita con tutto quello che fa tutto quello che fa accadere nella tua esistenza anche a volte purtroppo ci sono delle situazioni che ovviamente non si possono paragonare a quelle delle multe ci sono delle situazioni ben più gravi e ben più drammatiche ma in ogni modo la vita le tue guide tutti gli esseri di luce che ti circondano stanno cercando di farti vedere qualcosa di darti delle informazioni di farti vedere che magari la tua vita non sta andando nella direzione giusta o semplicemente che magari potresti rettificare il tiro per fare quel quel gradino in più per evolverti più velocemente o per ottenere quelle cose che magari risuonano dentro di te mentre magari ti stai facendo guidare dalle paure e non dal tuo cuore quindi quello che ti voglio stimolare a fare è proprio quello di cambiare la tua visione quando accade qualcosa di spiacevole cerca di cambiare visione non è la vita che ce l'ha con te ma è la vita che sta in qualche modo cercando di favorirti anche se non sei ancora riuscito a capire il motivo quindi facciamo questo passo questa promessa a te stesso è importante che tu faccia la prossima volta che capiterà sicuramente qualcosa che magari non sarà propriamente piacevole piuttosto che fare la vittima e dire a te stesso ecco ce l'hanno tutti con me l'universo ce l'ha con me eccetera 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 comincia a farti questa domanda cosa sta cercando di dirmi la vita come sta cercando di favorirmi in questo momento quindi fatti questa domanda e cambia la tua esistenza già solo con questo ciao alla prossima